Un grande freddo e primi fiocchi di neve a Milano. La città si è svegliata spolverata da neve molto bagnata. Dopo una breve pausa i fiocchi hanno ripreso a scendere copiosi e nelle vie del centro, già illuminate a festa, si respira un'atmosfera natalizia surreale perché a causa della pandemia c'è davvero poca gente in giro. I passanti scattano foto e selfie con la prima neve dell'anno. In Piazza Duomo l'albero di Natale è quasi pronto per l'accensione che avverrà come da tradizione a Sant'Ambrogio il 7 dicembre. La neve ha imbiancato tetti e balconi con temperature vicino allo zero. Qualche disagio sulle strade per il traffico, ma non perché ci siano problemi di viabilità legati alle condizioni meteorologiche. Anche in periferia e nell'Odigiano la neve sta scendendo abbondante colorando di bianco strade, tetti, alberi e macchine. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, le precipitazioni, anche nevose, dovrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.